Continuiamo con i nostri bei comandi per la gestione dei file, ed in questo video andiamo ad esplorare una funzione comodissima della shell, cioè il globe. Prima di continuare ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Lo scorso video ci avevamo lasciati che avevamo creato i file prova1.txt e prova2.txt ed avevamo copiato il file prova1.txt sulla directory scrivania. Andiamo a modificare il file prova1.txt che si trova sulla scrivania, giusto per dargli un contenuto riconoscibile. Da questo video in poi torno ad utilizzare Vima perché mi trovo più comodo. A questo punto abbiamo un file chiamato prova1.txt nella directory scrivania ed un file chiamato prova1.txt nella directory corrente, che hanno un contenuto differente. Voglio copiare il file prova1.txt dalla directory scrivania alla directory corrente, quindi esegui il comando cp dandogli come primo argomento il file di origine e come destinazione, se ti ricordi dal primo video, punto sta ad indicare il directory corrente. Non ha dato errore, ma attenzione non mi ha nemmeno chiesto se sovra scrivere il file esistente. Se ti ricordi lo scorso video anche il comando di cancellazione non ha chiesto conferma prima di cancellare. Fai quindi molta attenzione quando copi, sposti o cancelli i file, perché potresti andare a cancellare o sovrascrivere dei file inadvertitamente. Esistono delle opzioni per i comandi cp, mv ed rm che fanno sì che venga richiesto se cancellare un file o sovrascrivere un file esistente, ma lascio a te come compito a casa di consultare le main page relative ai comandi e scoprire quali sono queste opzioni. Spostare file, dicevamo. Per spostare un file il comando è mv e funziona esattamente come il comando cp, quindi se voglio spostare il file prova2.txt sulla directory scrivania, utilizzo il comando mv e vedi che ora non si trova più in questa directory, ma nella directory scrivania. Il comando mv viene utilizzato anche per rinominare un file, basta dargli un nuovo nome come destinazione, in questo modo. Ovviamente no, sono masochista, quindi se ho bisogno di effettuare operazioni di copia, spostamento o cancellazione, normalmente uso un file manager che è molto più comodo. Giusto per fare un po' di autopromozione, ti consiglio di dare un'occhiata al file manager R&R che ho scritto io e di cui ho parlato in un altro video. Ne approfitto, già che sono qui, di spostare tutti i file da scrivania alla mia home. Ma allora, perché ti ho mostrato questi comandi se il file manager è più comodo? Le risposte sono principalmente tre. Prima di tutto, non tutti i sistemi Linux hanno un file manager installato. Pensa in server ad esempio. Poi, i comandi di gestione dei file, data la loro natura non interattiva, sono molto utili negli script. Infine, i comandi di gestione dei file possono essere più comodi di un file manager in determinate circostanze, per esempio avvalendoci di globe e brace expansion della shell. Prima di parlare di globe e brace expansion, voglio mostrarti un comando semplice semplice, ma molto utile. ECO, che non fa altro che visualizzare i parametri che gli dai. Da buon programmatore, il primo messaggio che visualizzo è salve mondo. Il comando ECO è utile sia negli script per dare informazioni all'utente su cosa sta succedendo, ma anche per renderci conto di quali argomenti stiamo effettivamente dando ad un programma prima di eseguirlo. Veniamo quindi al nostro globe. Esistono due caratteri speciali che possono essere utilizzati per specificare parte del nome di un file. Il carattere punto interrogativo specifica esattamente un carattere e significa un carattere qualsiasi. Per esempio, prova punto interrogativo punto txt significa tutti i file chiamati prova seguiti da un carattere qualsiasi seguiti da punto txt e vedi come output del nostro bel comando ECO i file prova1 punto txt e prova2 punto txt. L'altro carattere speciale del globe, molto più utilizzato rispetto al punto interrogativo, è asterisco. Asterisco indica zero o più caratteri qualsiasi. Per esempio, asterisco punto txt indica tutti i file che finiscono con punto txt. Oppure sc asterisco indica tutti i file che iniziano con sc. Ti ricordo che uno dei principi della filosofia Unix è che tutto è un file, quindi per file intendo non solo i file ma anche dai rectori, sim, link, character device e via dicendo. Asterisco ova asterisco indica tutti i file il cui nome contiene ova. Quando usi caratteri di globe, quello che stai scrivendo in termini tecnici si chiama pattern. Ci sono un po' di cose da notare. Il carattere asterisco da solo sta ad indicare tutti i file non nascosti. Se voglio indicare tutti i file nascosti, il pattern da utilizzare è punto asterisco. Ti ricordo che sotto Linux i file nascosti iniziano col carattere punto. Quindi punto asterisco significa letteralmente tutti i file che iniziano con punto. Attenzione perché nella shell bash il pattern punto asterisco non solo matcha tutti i file nascosti ma anche le directory punto e punto punto, cosa che normalmente non vuoi che accada. Shell più evolute come zsh e fish fanno matchare al pattern punto asterisco solo i file nascosti, escluse le directory punto e punto punto. E se io voglio indicare tutti i file nascosti e non? Semplice, non me lo ordinei il dottore di far matchare tutto quello che voglio utilizzando un solo pattern globe. Quindi basta separare da spazio il pattern per matchare i file nascosti e il pattern per matchare i file non nascosti. Se vieni da DOS o Windows, sarei abituato a vedere il pattern asterisco punto asterisco. Attenzione che questo pattern sotto Linux indica tutti i file non nascosti che al loro interno contengono il carattere punto, come è logico che sia. Mentre sotto DOS e Windows indica tutti i file a prescindere se contengono il carattere punto oppure no. Altra differenza rispetto a DOS e Windows è che sotto Linux il globe è gestito direttamente dalla shell. Quindi invece che passare il pattern così come al comando, il pattern viene invece espanso e tutti i file matchati vengono passati ad uno ad uno come parametri al comando. Questo ha due implicazioni importanti. La prima è che il globe è utilizzabile come argomenti per qualunque comando. Attenzione che il rovescio della medaglia è che se un comando richiede un parametro che contenga caratteri di asterisco oppure di punto interrogativo, devi fare in modo che la shell non interpreti quel parametro come un globe. La seconda implicazione è che a seconda della shell che utilizzi è a disposizione estensioni al globe specifiche per quella shell. Per esempio, Bash supporta anche le classi di caratteri racchiuse tra parentesi quadre, che non andiamo a vedere in questo video perché non è supportato da tutte le shell. Oppure ZSH e FISH supportano due asterischi consecutivi per indicare di andare a cercare nelle sotto-directory e via dicendo. Per evitare che la shell interpreti caratteri di asterisco e punto interrogativo come partner di globe, bastere chiudere l'argomento tra singoli o doppi apici, come avevamo visto per i nomi di file che contendono spazi. Bene, applichiamo il globe per spostare tutti i file con estensione .txt nella directory scrivania. Una cosa che non avevo spiegato nello scorso video è che i comandi di copia e spostamento accettano anche più di un file come sorgente e l'ultimo argomento del comando è la directory di destinazione. Come puoi vedere, tutti i file con estensione .txt sono stati spostati ed è bastato un solo comando. Nel prossimo video andremo a giocare un po' con il directory sotto directory e vedremo un'altra funzione utilissima della shell, cioè la brace expansion. Grazie dell'attenzione. Ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odyssey. Trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao!